Un certo rumore, alcune dichiarazioni di una persona autorevole, intelligente e abitualmente cauta come il Ministro del Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, da un lato il va bene che ci sono affari quasi interni della Lega sulla linea interna e internazionale, soprattutto internazionale che deve tenere la Lega se legarsi in prospettiva al Partito Popolare Europeo, come sostiene il Ministro Giorgetti, oppure fare un rassemblement conservatore con l'esclusione soltanto di Alternative for Deutschland in qualche modo, che prenda un po' di parlamentari europei da tanti gruppi, compreso il Partito Popolare Europeo, per fare un gruppo alternativo al gruppo socialista e al Partito Popolare e poi invece il problema è invece più emergente il prossimo Presidente della Repubblica. E la tesi di Giorgetti è, insomma, se non è possibile che Mattarella si fermi e diventa sempre più difficile, onestamente, vista la volontà dell'interessato, beh insomma Draghi potrebbe diventarlo lui, non si va alle elezioni e all'obiezione che gli è stata fatta, ma poi l'economia è lui di vita, ma insomma Draghi è una persona che dal Quirinale può rassicurare l'Europa sul fatto che un altro governo che ci porta alle elezioni può andare. E si è parlato di semipresidenzialismo di fatto, cosa che ad uno della sua formazione il semipresidenzialismo è una roba che non... No, soprattutto di fatto, diciamo che noi dovremmo avere un riferimento, abbiamo un riferimento che è la nostra carta costituzionale e credo che a quella dobbiamo guardare. La carta costituzionale assegna potere al Presidente della Repubblica, ad una figura di grande garanzia istituzionale come il Presidente della Repubblica, assegna funzioni, compiti e credo che a quel perimetro noi dobbiamo guardare. Poi potrei risponderle con una battuta, diciamo, rispetto all'inizio della sua riflessione, è presto per parlarne e quindi cavarmela così. Diciamo che forse è presto per parlare pubblicamente, sicuramente, però è tempo per riflettere. Credo per i partiti e per i gruppi parlamentari per riflettere, soprattutto per ragionare su un metodo con cui arrivare all'elezione. Ma il Partito Democratico ha rinunciato all'idea di far fermare Mattarella, perché poi l'idea del bienio di Mattarella è anche piuttosto offensiva, se mi permette, perché un Presidente si è legge per sette anni, non è? Dici, guarda, ti leggevo per due, poi grazie, è stato un piacere. Io credo che innanzitutto dobbiamo davvero esprimere un grande ringraziamento al Capo dello Stato per come ha svolto la sua funzione in questi anni, per il servizio davvero importantissimo, preziosissimo, saggio, che ha reso al Paese in questo settennato. Credo che non dobbiamo tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, penso che invece dovremmo dedicarci appunto a costruire un percorso, un metodo che ci porti a individuare una modalità con cui costruire un consenso ampio intorno alla scelta, perché guardate che anche qua la nostra Carta Costituzionale ci dice qualcosa, ci dice che l'obiettivo primario è quello di costruire un largo consenso intorno a quella figura, perché le prime elezioni hanno bisogno di una maggioranza qualificata, a maggioranza semplice, a maggioranza assoluta si va dalla quarta votazione, questo significa uno stimolo ai partiti, alle forze politiche, ai gruppi parlamentari di trovare appunto consenso ampio su una figura che deve essere interpretata come una figura di garanzia, per cui io non ho, come dire, non rispondo a Giorgetti, ci sbaglierebbe, con cui ha anche ottimi rapporti, se devo discutere posso discutere con lui direttamente, però penso che insomma il perimetro della Costituzione è il perimetro che consente di inquadrare quella figura e quel ruolo dentro un sistema di garanzie e di pesi e contrapesi. Grazie.